Allora, noi siamo rientrati con tutti i giochini da fare, la parte finale compreso il sapientone. E ai miei piedi, sotto le mie ginocchia, che cosa c'è? L'avete già visto nella prima puntata e puntualmente ritorno anche nella seconda perché il format è questo. Per il gioco del tatto, un concorrente per squadra, chi fa il gioco si benda, adesso la benda è lì, chi gioca per Amaro? Lorena, prego. La benda? La bendi. Sì, ma anche tu devi bendarti. Chi gioca? Sindaco, mi bendi il concorrente. Gioca pure tu, gioca pure tu. Cosa vedi? Non lo fai io, sicuramente è più bello. A posto? Beh, non vede niente? Erano anni che volevo minacciarla così. Anzi, mi hai fatto. Tu t'a posto? Tu t'a posto, sì. Non ci sono problemi. Allora, cominciamo da che è in vantaggio, cioè Amaro? Mi tolgo un punto la prossima volta. Prego. Allora, venga Raffaella. Allora, mi do mi impalpi, la so che lasci stare però. Allora, dunque, deve qua dentro, appena, sono dieci secondi, ok? Ravani con una certa forza, fino a capire di cosa si tratta. Anche se butto fuori la roba uguale? Sì, sì, ma magari anche no. Non con una certa violenza, ma anche con un certo contenimento. Sì. Della stessa. Sì. Finito il tempo, sente la musica, quando è finito il tempo, ci si ferma, non si dice niente, si tiene la benda, ok? Sì. E tocca agli altri. Insieme dopo scrivete cosa avete trovato, o i più cose possibili dell'oggetto all'interno. Puoi guardare, ma devi stare zitta. Pronti? Con la musica? Che segna anche il tempo, via! Piano, piano, piano. Stop, 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 stop. Fermi qua, fermi qua. Nel frattempo hai fatto un pantano che ci vogliono in assa adesso per pulire qua. Ma non importa, that's all folks. L'ho detto, con una certa forza, mi raccomando, abbiate pazienza. Mi sembra interessantissimo quello che abbiamo fatto. Allora, signor sindaco, siamo pronti? Devo andare qui. Dov'è il guanto? Vuoi il guanto? Vuoi il guanto? Sì. Mettiamo il guanto. Vabbè. No, aspetta, 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 aspetta. Che prima dovrei anche pulire. Ecco. Pronti? Vado. Aspetta. Piego la musica. Via! Stop, 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 stop. Non l'hai trovato? Non l'ho trovato niente. Allora poi tira su, tira su il, togliti la benda. Togliti la benda anche tu, Raffaella, e scrivi. 20 secondi. Pronti? Via. No, abbiamo poca poca poca. Non l'hai trovato niente. Mi sono invaso qua. Adesso lo cerchiamo. Stop. Lei non scrive niente perché non ha proprio trovato l'oggetto, era piccino. Cosa hai trovato? Non so, io ho sentito due piedi. E questo è giusto? Due antenne. No. No. Una sfera. No. Non avevo una pancia, non avevo così, no. È una pancia, hai sentito? Sì. Pancia giusto? Sì, sì, una sfera pancia. Comunque bastava due piedi, giusto, il gioco lo vince assolutamente amaro e adesso vado a cercare con una certa calma che cos'è questo oggettino che abbiamo messo qua dentro. Nel frattempo, nel frattempo, torniamo dal nostro poma. Come siamo con la prova del gusto, caro Alessandro? Ci sei? Non ti vedo. Mi farebbe piacere vederti, ti vedo. Vai Bigfoot. Eccomi qua, ci sono, ci sono, ci sono là, fermatevi qua, fermatevi qua. Diego si fermi, Diego si fermi, perché qua siamo prontissimi. Allora, pronti per questa seconda prova, per quella del gusto? Sei pronto? Sì, prontissimo. Giorgio, ma dici la vita, cosa avevi sentito prima? Eh, ti ho detto io, non pensavo a una pizza. E cosa pensavi? Un'altra cosa, tutto differente, inerente alla mia professione. E vabbè, allora, facciamo così, mascheratevi, mascheratevi, mascheratevi. Quanti sono questi? Quanti? Quanti? Eh no, è indovinato. Quanti sono questi? Va bene, perfetto. Quanti sono questi? Bravissima, complimenti anche a lei. Allora, i piatti possono uscire, caro Diego. Esca fuori con i piatti. Esci di questi piatti, mamma mia. E intanto, fermala con le zampe, eh? Fermala. Guarda qua, caro pubblico, caro studio. Mamma mia che piattino, eh? L'appetito viene mangiando. Allora, lei si è munito già di forchetta. Mi raccomando con il cronometro. Forchetta anche per lei. Non serve il coltello. Vi ho dato l'aiutino. Qua c'è il piatto. Tocchi il piatto. Tocchi il piatto. Allora, al mio 3, 10 secondi. 1, 2, 3. Non annusi. Amanci. E lei annusa? Vabbè, si vuole annusare. Manci perché ci sono poco... C'è poco tempo. 10 secondi, eh? Mi raccomando. Manca poco. 1, 2, 1. E stoppa! Via Diego, torni qua Diego. Via i piatti. Beh, basta, eh. Emanuela, basta Giorgio. Togli i piatti. Togli i piatti. Rimani qua dietro. Rimani qua dietro un attimino. Intanto mangiate giù le bende. Tu su la benda. Giù, su, insomma. Allora, avete 20 secondi di tempo per scrivere nome del piatto. Fermo lì, eh? Al mio 3. Nome del piatto e nome degli ingredienti. Mi raccomando, 5 punti anche per questa prova. E si va. 3, 2, 1. Go! Vai! Si parte. 20 secondi di tempo. 5 punticini da portare in cascina. Intanto il premio. Sa che premio si potrebbe vincere. Lo sa. Barcellona. Si parla di Barcellona. Lei mi dica quanto manca. Ancora 8 secondi. 4, 3, 2, 1. E stop! Ferma! Ferma col pennarello. Caro Diego. Fuori con il piatto, caro Diego. E adesso potete continuare a mangiare. Intanto facciamo un applauso, pubblico. Facciamo un applauso. Intanto, come si chiama questo piatto, caro Diego? Gnocchi con speck e brin. Ah, proprio facile facile. Gnocchi con speck e brin. Intanto salutiamo la nostra Elisa. Salutiamo Sandro, il presidentissimo, che è già incavolato con Giorgio. Giuliana e la nostra fantastica Marisa. Allora, vediamo un attimino gli ingredienti che aveva scritto lei. Ci dica. Gorgonzola. Gorgonzola. Dove l'ha sentita? Non c'è. Poi, via. Speck. Eh, questo sì. Brava. Poi? Formaggio. Formaggio. Eh, vabbè, formaggio. C'è il formaggio. Formaggio. Ma che tipo di formaggio? A me sembrava grana. Eh, va bene. Ma bravissimo, bravissimo, bravissimo. E poi? Lei ci ha messo il gnocco. Sì, gnocco. Brava, brava, brava. E vediamo. Lei, cosa ha scritto? Vediamo. Io invece pensavo fosse un'anatra, cos'è. Un'anatra. Lui è strano. Lui, questo di Rive d'Arcano è strano. Prima pensavo alla Crespella e era una pizza. Adesso, vabbè, un'anatra. Un'anatra. Ma che anatra avete da quelle parti? Strane. Con cosa? Con cosa? Con panna. Eh, beh, c'è la panna. C'è, c'è, c'è. Panna c'è. E poi? Olio d'oliva c'è. Eh, beh, olio d'oliva c'è. E dopo qua noi ci fermiamo, mi sa, eh. Eh, ormai. E quindi chi si aggiudica questa prova? Non so. Se la giudica il club di Amaro, che ha indovinato anche il nome. Quindi applausi, applausi. Applausi veramente anche gli amici del club di Rive d'Arcano. Noi rimaniamo qua, signori, dello studio, perché continuiamo a mangiare. Rimaniamo in compagnia di Diego. Caro Diego, la festa continua qua, il piccolo bifi. Li facciamo mangiare, allora. Li facciamo mangiare. Dai, ci vediamo dopo, studio, per i saluti finali di questa seconda busta. Sontana di A TUTTO GUIZ 3.0. Ciao. Grazie, grazie. E mangia, vada. Insomma, la tecnologa caimana, eh. Mamma mia. Fra, come siamo messi? Eh, siamo a 17 a 5 per Amaro. 17 a 5 per Amaro. Cioè, voi state guardando vincere la vostra... Avete scelta bene? Brava, brava. Brava, Manu. Brava. Mi raccomando, respira però, Manu, quando mangi. Respira, cioè, prendi fiato, perché, voglio dire, esisterà, domani il sole sorgerà. Ho questa buona speranza, voglio dire. Detto questo. Concentrisci il cuoco. Cara la nostra Alice, ho visto dei dissapori nel club di Rive, anche qua, per quanto riguarda la prova del loro candidato. La prova del cuoco. Dei dissapori, come la mettiamo? Io qui al mio fianco, proprio il nipote del concorrente di Rive, ti lascio il microfono. Hai visto come è andata la sfida? Male, però. Paravi c'è il microfono, che se no non ci sentiamo. Facciamo i complimenti lo stesso. Dove l'avrà sentita, secondo te, l'anatra? Ce lo stiamo chiedendo tu. Io non lo so. Tu non lo sai. E come sta andando lo zio? Bene. Bene, anche se non sono riusciti a trovare fra la corteccia l'oggetto misterioso. E ci sono stati un po' di pazienza, no? Dici tu. Eh, Massimo, pazienza. Ma sì, dai, ma sì, dai. Eh, va bene, insomma, ci sono stati un po' di... Morta un'anatra, se ne fa un'altra, dai, voglio dire. Su, su, su. Però andiamo anche nella tifoseria di Amaro, scusami, ti passo davanti, Francesca. E allora andiamo qua, perché qui ci sono tutti gli amici, io adesso sono un po' fuori ripresa, ma, insomma, passo il microfono agli amici delle concorrenti di Amaro. Come sta andando? Siete contenti di questa... Bene, bene, bene. Con questo successo? Sì, 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 sì. Ve l'aspettavate? No, ma... Come no? No, ma scusa, hai visto la grazia con cui ravanava? Perché poi si è tolta la bella e dice, ma chi ha fatto qua? Lei, capito? E ancora dice, ma sono sporco qui. Le anatre di Rive d'Arcano sono... Sono gnocche. Sono gnocche, bravo. Le anatre di Rive d'Arcano sono gnocchi. Ecco, ecco perché hai sentito anatre. Hai capito la poesia del Poma, voglio dire. E allora facciamo un altro applauso per le varie tiposerie. Una tiposeria... Per un'attenzione. Un applauso per Amaro. Un applauso per Rive d'Arcano. E sono più fatti. E ancora un altro applauso per Amaro. Di qua. Basta. Basta. Abbiamo perdita abbastanza. Hai perso due o tre anni di vita e mezzo polmone, quindi è a posto. Siamo pronti? Amici miei, amici miei belli, brutti, anatre e non. Allora, pronti per il gioco finale a cui, cara Francesca, Amaro giunge in larghissimo vantaggio. 17 a 5. Sì. Ormai avete la vittoria in tasca. Dai, diverto. È troppo divertente. Come ce la tira, eh? No, figuriamoci, voglio dire. Ma quando... Ha rovinata l'amicizia. Non mi scriveranno mai più in chat che non capiscono le comunicazioni. Non leggo più i messaggi d'ora in poi. Non li hai mai letti. Questo è il discorso. Quale sarebbe la novità? Cominciamo da chi è in svantaggio, il sapientone. Partiamo con il jingle e lo andiamo a spiegare. Allora, Riva e D'Arcano porta un argomento incredibile. 100 anni di storia americana. Storia americana dal 1690 a 100 anni dopo. 1790. Soprattutto le vicende che hanno portato le colonie a staccarsi dall'antica madrepatria, ossia l'Inghilterra. Detto questo, le domande sono a difficoltà crescente e anche a punteggi crescenti. La prima domanda vale 6 punti. 7, 8, 9, 10. 5 domande soltanto. Siete pronte? E pronti? Sì. Annuite? Bravi. Fatemi un sorriso. Salutate a casa, adesso lo taccete per sempre. Scherzo. Via, si parte. Prima domanda. Il numero di colonie che si opponeva alla madrepatria inglese. Fate finire la musica. Originariamente, quante erano le colonie? 13. No, dovete rispondere, non dovete... La potete scrivere, ma comunque la risposta è se è quella e è giusta. Dobbiamo scrivere e poi le diamo alla fine. No, potete dirmela anche così, tra di due. Diciamocelo, dite, quante sono? Vedete fuori. 13. 13, giusto, bravi, bravi, bravi. Brave, bravi e bravi. Seconda domanda, non dovete scriverla, dovete darmela, scherzi a parte. Leggiamo, seconda domanda. Quando finisce la musica rispondete. Cosa decreta nel 1765 lo Stamp Act? Me lo dite. Quando finisce la musica me lo dite. I documenti si voleva un bollo, sostanzialmente. Poste di bollo su tutti i documenti, sull'utilizzo della carta. Giusto, giusto, bravi, 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 bravi. Sempre più difficile in termini di punteggio e anche di risposta. Terza domanda. La leggiamo. Quale colonia nel 1774 propone un congresso di tutte le colonie? Le chiama a raccolta tutte? Tre, due, uno, no, è Rhode Island. Rhode Island chiama tutte le colonie a congresso. Applauso allo stesso. Qui parliamo anche di cinema. Andiamo a leggere la domanda. Il film è Il Patriota. Quale comandante inglese realmente esistito compare nel noto film Il Patriota? Sarebbero due, ma ce n'è uno in particolare, un comandante inglese. Avete visto il film? No. Il noto film Il Patriota. No. Allora, il generale Charles Conwallis, quello che aveva i due cani che Mel Gibson gli frega. E' realmente esistito, faceva parte delle truppe inglese. Sì, 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 ma non l'avevo visto il film. Non l'avevo visto il film. Niente. Domanda numero 5. I cosiddetti Minot Men dovevano essere pronti alla battaglia con che tempo di reazione? Tipo i Navy Seals, per capirsi. Erano chiaramente, adesso ci spiegano, visto che la sanno anche da che parte stavano e che... Dovano essere pronti in quanto tempo? In un minuto. In un minuto. Bravi, domanda 10. Bravissimi. Praticamente erano... Sette. Truppe americane, per capirsi? Sì, sì, erano quelle dei coloni. Quelle dei coloni. Non erano ancora organizzate come truppe americane. Quelli del film Il Patriota, per capirsi. Erano Minot Men. Sì, sì. Bravissimi. Quanti punti hanno fatto? Allora, in questo gioco hanno fatto 23 punti, quindi vanno a 28. 28 a 17, devono rispondere, assolutamente diventa per loro fondamentale il gioco, nonostante il vantaggio, chiaramente quei punti triplicati del gioco finale, diventa assolutamente interessante. Le nostre amiche di Amaro portano musica leggera italiana. Stesso meccanismo, vedete la domanda, finisce la musica e rispondete. Pronte? Prima domanda. Chi ha composto e cantato? Croesa de Ma. No, vado via. Chi? Vado via. Vado via? Vado via. Me ne sto per andando. Vasco Rossi? Ma no, me l'ha detto Nicola Cento. Qui si finiscono le trasmissioni e arrivano, passerà il carosello, le pecore e tutto. De André. Croesa de Ma. Cosa fa? Canzone storica proprio in genovese. Sì, va bene. Amen, amen. Valeva 5. Ok. 6. Valeva 6, scusa, valeva 6. Grandissimo intervento del nostro avvocato. Il giudice di gara, il giudice di gara. No, perché a me hai dimostrato di essere sveglia, voglio dire, non sei un ologramma proiettato da casa. Seconda domanda. Quante volte Mango ha partecipato a Sanremo da Big? Aspetta. 4, 5, 6 o 7? 4, 5, 6 o 7 da Big? 6. 6. 6. Giusto! Brave, 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 brave. Bravissime, bravissime, bravissime. Stavo dicendo la preparazione, è grande preparazione. Andiamo avanti. Terza domanda, questa comincia a valere abbastanza. Chi presenta nel 94 a Sanremo, minchia, signor tenente? Giorgio Faletti. Giorgio Faletti, brave, brave, brave. Mi piace che esultano in modo moderato, mi piace, sì. Stengono tutto dentro. Domanda almeno 4. Perché il brano 111 di Tiziano Ferro pare sia autobiografico? Aspetta e esulta, è già pronto in posizione. No, faccio vedere, parla? Ah, ecco. Perché è autobiografico? Perché lui era obese, pensava un quintale 11 kg. Per bacco, bravo, bravo. Questa era veramente difficile, io non la sapevo. L'ho letta, l'ho letta preparando le domande. Sì che mi piace Tiziano Ferro, questa non la sapevo. Sì, sì, sapevo. E adesso è beccata questa, questa è una chicca di sempre di Sanremo, un'apparizione fugace. Andiamo a leggere. Chi canta a Sanremo nel 1988 sarà per te? Francesco Lutti, lo sai? Ah no, si stia più grande. No, no, no. Qual è? Chi canta sarà per te? Lutti. Francesco Lutti, vince Amaro, complimenti! Cioè, ma scusate una cosa, avete beccato Francesco Lutti e non conoscete Croisa de Mar? No. Adesso a casa. Abbiamo pensato a latinoamericano, noi. Sì, anche io pensavo a qualcosa in portoghese. Ebbè, è genovese, sembra in portoghese, però è genovese. Detto questo, brave, brave, quindi passano. Faedis nella prima, Amaro nella seconda. Andiamo a salutare il Poma. Ale, ci senti? Andiamo a salutarti, te e i voraci, i tuoi commensali. Veramente, una roba incredibile. Quelli di Amaro, insomma, vanno via con il dolce in bocca. Certo, eh sì, eh. Contenta, eh? Parecchio. Parecchio, è un po' meno contento il nostro amico Giorgio che ripasserà un pochettino il manuale dello chef. Delle ricette di cucina. Eh, ma lei sappiamo che lei gira il mondo, no? Lei è abituato, abituato a mangiare un po' di tutto, eh? Non solo cucina meriterranea, anche qualcos'altro, diciamo. Ah, anche qualcos'altro, non vogliamo sapere cos'è altro perché, eh, perché se no, Campazzo, qua facciamo subire un'altra puntata. Intanto, noi vi diamo appuntamento alla terza puntata, quindi la prossima puntata dell'equizione, lo abbiamo anche scritto. Naturalmente, salutiamo tutto lo studio, salutiamo tutta la regia, salutiamo tutto il fantastico pubblico che avete lì in studio. E alla prossima uscita, anche perché i nostri concorrenti sono veramente fantastici. Adesso puoi far esultare Amaro, che gli ho stroncato l'esultanza in corpo, ha esultate! E' un esultanza da parte di Amaro, ecola qua! Però chiediamo anche, appunto, a una rappresentante dell'Udinese Club di Rive d'Arcano, com'è? C'è un po' di amarezza per questa sconfitta? Un po', non c'è... mi aspettava qualcosa di meglio, ma... Ma si aspettava qualcosa di meglio dai concorrenti, la nostra Erika, eh? Vabbè, è andata così, dai, però insomma, vi siete divertiti? Sì, sì! Sì? Sì! Allora, Francesca, mi pare che non ci sia stato bisogno del tuo contributo rispetto alla prima gara, perché il punteggio è poi stato anche nell'ultimo gioco confermato da chi non conosce, però, Crosa de Mare. Sì, e questo dovrebbe portare un demenzio di dieci punti. Quindi sappiamo che le domande dove colpirvi saranno quelle su De André, Fabrizio De André. Diciamo che noi abbiamo voluto creare un po' di suspense questa cosa, perché... Ma hai mandato col curicolo Mazzelli che hai trovato chiuso, di una verità, ti hanno rimbalzato. Posso salutare le mie colleghe? Per farle invidia, così, io sono quello per lavorare. Volevo salutare i miei colleghi dell'ACLI di Udine, che sennò domani mi puniscono. Sì, ecco. Ciao ragazze! Punitela comunque, eh, punitela comunque, avete il nostro beneplacido. Facciamo un bel applauso, Areide. Grazie di averci accompagnato. E soprattutto complimenti per il coraggio dell'argomento, perché è veramente complicato. Anche a cercare le domande, era difficile trovarne non difficili. Perché comunque il livello, perché voglio dire, in poco tempo si è concentrata tantissimo. No, ma infatti l'unica che è andata era quella del cinema, perché sì, se uno non aveva visto il cinema... Che tra l'altro è un film che, se non l'avete visto, è veramente bello. È veramente, veramente bello. Che racconta una storia romanzata con un sottofondo di verità. Perché c'è anche un altro generale, cattivissimo, sempre inglese. Mi spiace, arriviamo amici una volta, adesso non lo siamo più, ma questa è la legge del quiz. Scherzi a parte, queste signore insieme, non hanno mai partecipato insieme, adesso non sto gufando, dico quello che penso. Sono uno degli avversari che dovranno essere battuti, perché loro sanno un po' di tutto, quindi è difficile battere. Non sto scherzando, dico quello che penso e adesso ha maggior ragione. Faidis da una parte, Amaro dall'altra, andiamo verso semifinali assolutamente di livello. Detto questo, grazie sorelle amarissime, ci rivediamo, vediamo chi sarà il vostro avversario in semifinale. E chiaramente, continuate così, perché insomma, voglio dire, posso immaginare scatenarle per le Ramblas di Barcellona. Cosa può venire fuori? Siamo arrivati alla fine, Francesca grazie, il pomo l'avevo ringraziato. Alice, grazie come sempre, grazie al pubblico. Regia, grazie, grazie dell'ottimo, preciso e puntuale lavoro. Rive, Amaro, buonanotte, ritorniamo venerdì prossimo. Ciao! Rive, Amaro, buonanotte, ritorniamo venerdì prossimo. Rive, Amaro, buonanotte, ritorniamo venerdì prossimo. Rive, Amaro, buonanotte, ritorniamo venerdì prossimo.